Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia! La patch 8.20 arrivata ieri ha portato una bella ventata di novità per quello che riguarda il nostro tanto amato Fortnite. A partire ragazzi dai nuovi consumabili per passare a delle modifiche alla mappa fino ad arrivare, oltre all'innumerevole numero di bug fixati, anche alla possibilità di competere nella modalità Arena. Insomma, se seguite le mie live state vedendo ragazzi tanta tanta roba extra in questa nuova patch. Nel video di oggi però ragazzi voglio parlare appunto di alcune novità che sono state inserite nella mappa e che forse non avete visto se siete concentrati a dedicarvi per le qualificazioni della World Cup. Vedremo ovviamente tutte le nuove skin introdotte insieme all'aggiornamento che arriveranno i prossimi giorni e ovviamente le sfide di oggi, quindi della settimana numero 5 di questa Season 8. Eh già ragazzi, siamo già arrivati a metà Season. Voglio però ringraziare tantissimo tutti voi ragazzi che utilizzate il mio codice creator XIUDERONE. Grazie di cuore per il mega supporto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Prima però ragazzi, la domandina raga ve la devo fare, ci tengo un casino. È una domanda davvero semplicissima e voglio i vostri commenti proprio qua sotto ragazzi. Ma come ti è sembrata la patch? Voglio sentire adesso la voce del popolo ragazzi, ditemi voi giocatori di Fortnite cosa ne pensate di questo update 8.20. A me personalmente piace, a me personalmente piace ragazzi, dai non mi posso lamentare. Qua sotto nei commenti mi raccomando le vostre opinioni. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a vedere una delle prime modifiche nella nostra mappa. Siamo ovviamente a corso commercio, è riconoscibilissimo e ragazzi c'è stato un upgrade del Dur Burger. Come vedete viene creato un secondo piano nella location dove c'è il Dur Burger che è andato a sostituire il vecchio a Boschetto Bisunto. Sad story, Boschetto Bisunto l'abbiamo perso nel ghiaccio, non si sa se lo recupereremo mai. Quindi tanta roba anche per questo nuovo, possiamo, questo upgrade del nuovo edificio. Ma parlando di edifici invece eccoci qua. A Pinnacoli ragazzi, viene completato finalmente, non si sa per quanto rimarrà in piedi, l'edificio centrale di Pinnacoli. Diciamo l'edificio più sfigato di tutte le season di Fortnite. Arriva finalmente al suo completamento e quando arriva l'edificio completo di solito c'è puzza di evento. Quindi staremo a vedere che cosa distruggerà l'edificio di Pinnacoli. Non vedo l'ora di vederlo. Ma andiamo avanti e parliamo ovviamente di un'altra cosa super importante. L'avete riconosciuto? Se non lo avete fatto, questo è il Lava Legends Pack. Come vedete, due stili per il Segugio da guerra e per la Valkyria. Entrambi modificati e trasformati in uomini di lava. Con tanto di ali, backpack e deltaplano che non è altro che il Frozen Flight. Se non ricordo male il nome ufficiale qua sicuramente diventerà Lama Flight. Sappiamo che questo pack uscirà il 29 marzo. Quindi ragazzi domani arriverà e costerà, aia, 20 euro ragazzi. Quindi un pochettino come il pack del Dark Cupid. Non sappiamo però se verranno inserite anche delle sfide come lo era per il Cupid. Perché qua ragazzi non si parla di V-Bucks extra. Quindi non lo so, non lo so. 20 euro sono 20 euro, non ci sono i V-Bucks. Con il Dark Cupid te ne davano 2000. Quindi sai, un po' ci rientravi. Comunque questo ragazzi vedremo ovviamente quando uscirà. se merita o non merita di essere acquistato. Ma eccole finalmente ragazzi le sfide di oggi. Quelle che arriveranno alle 15 e 30. Le vediamo molto velocemente insieme. Fare danno ai nemici con armi, con il mirino. 200 di danno. Forse è la prima fase di 3. Eliminare nemici al campo dei pirati. Che sarebbe Laguna Languida, se non ricordo male. Usare il Geyser del Vulcano. Una Ziplan e un veicolo nello stesso match. Quindi una cosa che si può tranquillamente fare. Non sono molto difficili. Dai raga. Cercare i forzieri a Palmetto Paradisiaco, a Shifty Shaft. Condotti confusi. Non mi ricordo mai Shifty Shaft in inglese quale cacchio è. Comunque cercare probabilmente i soliti 7 chest. E abbiamo gli stage. Fase numero 1. Recuperare lo Shield con i funghi. Fase numero 2. Recuperare lo Shield un totale di 100 con gli shieldini. Fase numero 3. Recuperare lo Shield un totale di 100 con gli shieldoni. Quindi anche queste cose non sono assolutamente difficili. Completare un giro nella pista di Borgo Allegro. Infatti se avete notato nella parte, diciamo che noi abbiamo Borgo Allegro di fronte, visto con le spalle al mare, a sinistra c'è una pista. Bisogna completare quel tracciato per completare la missione della settimana numero 5. E chiudiamo con forse la più interessante. Totalizzare 15 rimbalzi in un singolo, non si sa se sia un singolo lancio, con la girosfera. Staremo ovviamente a vedere, probabilmente bisognerà cercare di rimbalzare 15 volte con un unico lancio. Lo vedremo domani pomeriggio, vi caricherò ovviamente la soluzione in modo che non sbaglierete sul come farla. E chiudiamo ragazzi, badabam, con tutti i nuovi cosmetici che sono arrivati. Con questa patch abbiamo ben una coppia di pirati con tanto di stile personalizzabile ragazzi. Molto molto bella lei, molto interessante lui, diciamo più allegro ecco di cuore nero. Anche lui con lo stile personalizzabile del pirata finale. Ma andiamo avanti, abbiamo il backpack, non so se sia di lei o di lui. Un timone con incastrata l'ancora e due classiche spade dei pirati. Un piccone con un timone anch'esso e il bastone che finisce con un'ancora. Molto carina forse, molto carino questo piccone anche eventualmente se lo vogliamo mettere al nostro cuore nero senza utilizzare quella roba mastodontica che è il suo spaccaninnoli che è veramente esagerato. Abbiamo una delle skin più igno... questa la voglio raga. Questa la voglio, non posso non avercela raga. La voglio, la voglio. L'abbiamo la tizia a forma di cactus e probabilmente la nuova emote. Messa così fai finta di essere un cactus quindi staremo a vedere. Molto molto carina questa skin scherzi a parte. Un'altra skin, lui si chiama tipo lo stregone, adesso non mi ricordo il nome. Abbiamo anche la versione femminile, intrigante anche la versione femminile, quasi spaventosa direi. E andando avanti la skin magma. Vi ricordo che ci sono due skin. Questa ragazzi è la più rara e dovrebbe essere quella animata. Dicono che sia la prima skin epica per armi e veicoli. seguita dalla skin hat che invece è rara. Quindi costerà probabilmente 600, mi auguro, costi di meno perché 600 è una fucilata incredibile. Quindi due camo per le armi. In realtà ce n'è un'altra, non ve l'ho inserita perché me lo sono dimenticato. È tipo delle squame di drago dorata. La vedremo magari domani mattina. Non c'è problema. Il backpack di uno dei pirati che non è altro che una botte con un boccale di birra sotto. Il piccone della skin del cactus. Il piccone dei due tizi super incazzati di prima. E mamma mia, forse è questo il loro piccone. Forse è questo il loro piccone perché questo è veramente molto molto figo. è daemon qualcosa. Un backpack con una specie di bambola voodoo. E questa sicuramente va ai due tizi. La maschera sempre per loro. E direi che ne abbiamo viste tutte. Beh ragazzi, io per oggi vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, pollice in su. Codice creator xyuderone. Noi ci vediamo in live alle 13. Ciao! Ciao!